L'articolo 138 comma bis relativo e comma 4, insomma non sto a citare un film famosissimo, ma il punto è puramente politico, è puramente politico, quando la mia collega Moni l'ha liberate, però se c'è questa apertura da parte mia c'è la massima disponibilità a ritirarlo per un passaggio in commissione, o meglio a rinviarlo in commissione, così è più corretto, perché il tema è puramente politico, salvo appellarsi ai vari articoli 4 comma bis, di fatto c'è comunque un nodo da sciogliere perché ci sono delle incongruenze anche a livello giuridico, puro, c'è anche una questione di visione politica, come vogliamo affrontare lo scenario che ci aspetta con la gara, prendendo come insegnamento gli errori commessi in alto sud, perché abbiamo situazioni dove stiamo già sperimentando il fallimento di una scelta politica secondo noi sbagliata, allora partiamo da quello per evitare i soliti errori, quindi se c'è questa volontà laica, cito, di affrontare il problema in modo serio io rinvio l'atto in commissione. Grazie. Grazie. Grazie.